Sì! Ti aveva tipo perso, ti ha perso, ti ha perso! Ti aveva perso, ti aveva perso! Tutti i suoi posizioni! Sì! Una masca volante! Guarda, come c'è una masca! Sono biondo, guarda! Sono una masca! Allora, pensiamocci tutti davanti a loro! No, aspetta, noi siamo da sulle che cercano! Eh, ma dobbiamo aspettare! Ma che pari! Mi sono stati quattro minuti! Sì! Non so neanche come cercare! Beh, non so neanche chi, io mi metto la latta! Non so neanche dove funziona, no? Eh, c'è no, vieni qua, tu puoi fare questo, vieni qua! Io non riuscivo mai a farlo! Guarda! Dopo facciamo un gioco dalle armi! Sì! Io non riuscivo mai a fare i defici, ma non riuscivo mai a farlo! Quindi uccidiamo tutti e trovermo più! Quindi uccidiamo tutti e trovermo più! Non ho mai visto! Non ho mai visto! Sì, aspetta, dove vai? No, questo non è troppo... E' il drake! Boh, non li sapevo, non li... Cioè, non mi ricordo, li sapevo però... Boh, non mi ricordo! C'era un altro... Ah, che entri qua, entri qua! Che entravi qua, vieni qua! Sì, bravo, quello lì, quello lì! Purtrofino Se no c'era un altro... Eh... E' ho visto un sacco di video, però... Non c'è più nessuno qua! Io non ci sono uno! appassato spagnolo 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 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Sì Sì Qua non c'è nessuno più Eh, io li... Eh, perché sono in 2 Io li metto intera le 2 Sì Sì Eh, mati di 30 secondi, lascia lì R2, quello che puoi sparare... Ah, ma ti spai... Ah, sì, perché si lock Ah Mi ha fatto una hit qua No, ma non lo sa Sì, lascia lo sa, lascia lo sa, quello scappare No, ero un esca Sai, è qua che sta scappando, sì, sì, era Ah, ho capito Sì, quando si fissa che le guerre due si bloccano, ho capito Eh, mi sono seguendo Ma io sono scappato Mi lo seguivo Sì, dai Ma io sono un cazzo di cisterno Quindi Ehi, chi è l'altra scatola? Facciamo una pila Ah La bicicletta sono Guarda che cazzo sono Guarda cosa sono io Guarda cosa sono io Guarda cosa sono Ditevi vedere qua guarda, guarda io sono un bidai guarda qua sono un bidai dai che ne come puoi fare un bidai un guattotipo non so se si capia l'oggetto ho paura io sono un bidai guarda che faccio io, vieni a vedere non mi aveva visto aspetta, li faccio al giro guarda cosa mette il 6 ma che stupido che non ci vuoi nooo, non so la fiii ho posito è un cesso un po' stolto eh però metto bene dai metto bene dai ci viene a trincare un po' secondo me bravo eh no ma no prestato un cesso con due cessi se sei brutto questo spam no non posso ricambiare non posso dire una complessa dai il cesso deve durare no no col cacchio è brutto quando si amica citturino mi fa ci sono rinforzato non lo so ma non mi trovo la vita ma oh 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 vattene 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 ahahah oh no l'ho trovato guarda c'è però guarda un po città ma se non si sa ma ti ho visto tipo per un attimo, ti vedo oppositi mi vedi no lo sai oh oh ti hanno beccato via lo vedo io sono vicinissimo no no dispara, dispara, dispara ah ho fatto un tempo un tempo di scappa oh che ball ah 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 questi sono i noi cops che dico io cambiaamoo avete visto e questo è niente guardate questo che parlo di San San guarda il mio Marcel è duro è duro asciutto qui non le sparo neanche adesso mi butto già la mafia non mi butto dopo di shine prima più divertente eh che prima ragazzi io no prima non c'è non c'è più divertente è stato il più bello siciliano la facciamo qui scopo era lì si segui a opposito lascio stare ecco assist devo tagliare tutto non facciamo qui scopo cosa bene è il rischio è il rischio però lì è il rischio non 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no insieme lo siete c'è dovuto di qua sopra e poi è un po' complicato è qua, farglielo vedere devo far sempre lui un colpo, guarda lo fa subito di chiara io non c'erò mai no no, diverso di là, vabbè, vabbè ma come fai, vabbè ma come fai, vabbè dai via, ce l'ho io ultimi secondi, sfruttateli ma c'è qualcuno qua? dove c'è? non so ne come quello dove sei ah lì, sì 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 quello sì sì lo so, lo so quello che vai a finire sì lo so che vai sotto lo so guarda, vai di sotto a presa nera qua, guarda di sotto vero? guarda, vengono c'è, vengono c'è ciao ci hanno battuti, ma non ci arrendiamo forza no, hai troppo poco boost ma che cos'è? non si capisce è realmente piccolo, non lo spariamo io sono un ventilatore guarda 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 si può fare gli glitch qua guarda 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 questo oggetto fa un po' cagare wasp oh ma sono tutte ancora, allo spawn non si si son spostati Sì Anche con la scatola di chi fa borrarvi Guarda dove sono io Sto mentirato guarda Ecco Shihopu che salta Ti vedo E' uno vicino a me Allo spau E' uno vicino Che c'è E' uno vicino scolpisco mannaggia fischio finale se non se ne va va bene non entrerà mai io cambio tra poco finirà io cambio io vedo te io vedo qualcuno di voi vieni da me vieni da me eh ce la giudicina la sentito qua che si guarda guarda tu ciao io non esisto che sta merda no mi son suicidato sorda sono caduto ehi da ciao 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 ciao